Carrello Z501 Carrello Z501F in alluminio colorazione black, lo si può trovare in colorazione silver e in alluminio. Il carrello presenta dei giunti e delle maniglie in acciaio inossidabile, le ghiere in nylon e teflon. Abbiamo delle ruote da 200 mm che sono utili per i spostamenti in varie superfici. Come potete vedere il carrellino ha una massima leggerezza. Sono lieto di presentarvi il nostro carrello servo assistito Power Jack dotato dei relativi accessori vasca in acciaio inox B-Support e coperchio in polietilene B-Cover. Vediamoli adesso insieme. Il nostro coperchio B-Cover è in polietilene ad alta densità, un ottimo presidio che protegge la vasca da agenti chimici e patogeni, semplicissimo da rimuovere. Infatti grazie a quattro ganci posti nelle due estremità, quindi due per lato, lo rendono rapido alla rimozione. Una maniglia posta nella parte superiore è installata per appunto movimentarlo ed esso si presenta molto leggero. Vediamo ora B-Support, la vasca in acciaio inox completamente realizzata in Italia, che nasce per far affronte con professionalità alle esigenze di pulizia e vestizione della salma. La sua speciale forma con un bordo rialzato e completamente stagna permettono di trattenere i liquidi al suo interno e di rendere molto semplici le operazioni di pulizia della stessa. Essa è dotata di due manici telescopici per lato, come possiamo vedere sia da questo lato che dall'altro, che permettono un'ottima manovrabilità della stessa vasca. Essa in questo caso, come vediamo, è installata sul nostro carrello Power Jack, può essere altresì installata su un carrello Jack non motorizzato, quindi con il nostro classico pedale e la pompa oleodinamica e può essere anche rimossa dal carrello. Wing è un sistema di supporto per bare, leggero, versatile ed elegante, realizzato in alluminio, grazie al suo meccanismo innovativo è possibile realizzare più altezze. e lo si può presentare in colorazione bronzo e silver.